buongiorno 9 marzo giornata del design italiano nel mondo l'istituto italiano di cultura di mosca da cui vi parlo ricorda celebra questa questa data con una conversazione che oggi facciamo con cristiana perrella buongiorno cristiana buongiorno e tra un attimo spiegherò perché proprio con con lei ricordo che la giornata del design italiano nel mondo è una manifestazione del ministero degli affari esteri italiano che attraverso gli istituti di cultura opera per divulgare per propagandare i prodotti della cultura italiana anche quelli diciamo più recenti anzi forse soprattutto quelli più recenti più vicini alla contemporaneità e quest'oggi parliamo con cristiana perrella del milano design film festival che cristiana dirige la cui edizione del 2022 ha diretto per la prima volta il festival come adesso sentiremo da lei esiste da dieci anni ma quest'anno è un'edizione l'anno scorso anzi è stata un'edizione speciale prima vorrei presentare a tutti cristiana perrella che è una storica dell'arte curatrice ha diretto dal 1998 al 2008 il contemporary contemporary arts program della british school a roma ha fondato e curato lo sportello arte contemporanea della sicilia per il museo d'arte contemporanea della sicilia a palazzo riso di palermo dal 2007 al 2009 e ha curato il progetto arte e scienza della fondazione golinelli di bologna dal 2009 al 2018 è stata dal 2018 al 2021 direttrice del centro pecci per l'arte contemporanea di prato è stata come curatrice indipendente ha collaborato con diverse istituzioni italiane internazionali di grande importanza e sarà quest'anno nel 2023 la curatrice dell'edizione 2023 di panorama la mostra diffusa che viene promossa da una consorzio di gallerie d'arte italiane e che quest'anno si svolgerà se non mi sbaglio cristiana all'aquila ma con ma quest'oggi parleremo invece del milano film milano design film festival dell'edizione del 2022 allora che cosa e come nasce che taglio a questo festival cristiana e che cosa ha rappresentato questa edizione da te diretta in termini di novità il milano design film festival è un evento molto amato a milano cominciamo col dire questo naturalmente milano è la capitale internazionale del design ha il suo salone del mobile e il fuorisalone che ogni anno attraggono veramente migliaia di persone internazionalmente e soprattutto è anche un centro straordinario di creazione e di produzione con tutta la rete di aziende importanti a livello appunto internazionali che gravitano intorno alla città e il milano design film festival nasce dieci anni fa con l'intento di raccontare lontano dal salone quindi creando un altro appuntamento annuale il design al cinema quindi raccontarlo attraverso un linguaggio che è il linguaggio del cinema che fosse anche un linguaggio estremamente comunicativo quindi che servisse in qualche modo come strumento di conoscenza di approfondimento e anche poi di piacevole così elemento attrattivo per chi magari il design non lo frequenta così da vicino in questi dieci anni il festival si è molto consolidato da sempre ha un carattere diciamo diffuso rispetto al territorio cittadino quindi spesso utilizzato varie diverse sedi in città e è stato appunto io l'ho raccolto quest'anno dalle mani di Silvia Robertazzi che è stata non soltanto la curatrice delle ultime otto edizioni ma anche la cofondatrice e ovviamente si trattava di una responsabilità per me che vengo da un ambito che poi è leggermente diverso anche se sempre più vicino a quello del design che è nell'ambito dell'arte contemporanea vengo da un'altra città perché io sono romana quindi indubbiamente una sfida una sfida notevole. L'idea che con il team del Misano Design Film Festival abbiamo avuto per rendere la manifestazione qualcosa di sempre più vicino anche al modo in cui il design sta cambiando è stata innanzitutto di aprirlo a molte collaborazioni esterne quindi di chiamare insieme a me dei co-curatori di sezioni che fossero personaggi che portassero al festival una loro visione anche molto specifica del design e questi tre personaggi sono stati per l'edizione 2022 Bianca Felicori che è una giovanissima ricercatrice che sta portando avanti da anni una piattaforma estremamente interessante di ricerca sulla architettura dimenticata ha appena pubblicato un libro per Nero Editions che si intitola Forgotten Architecture e che presenta diciamo il primo risultato di questa ricerca una ricerca che va a scovare letteralmente immagini e storia di edifici principalmente costruiti tra gli anni 60 e 70 e oggi appunto abbandonati o dimenticati quindi edifici frutto di un pensiero dell'architettura piuttosto radicale e questa radicalità Bianca ha portato al festival curando una sezione molto molto interessante anche per certi versi sorprendente dedicata all'architettura gonfiabile degli anni 70 e insieme a Bianca altra curatrice ospite è stata India Madhavi India Madhavi per chi conosce il design non ha bisogno di presentazioni è un'architette designer franco iraniana in realtà la sua formazione è una formazione estremamente cosmopolita per le sue vicende familiari ha avuto un'infanzia itinerante tra vari paesi appunto il suo nativo Iran ma poi l'Europa e poi gli Stati Uniti e di questa sua itineranza il suo lavoro porta il segno ma nel corso degli ultimi anni India si è resa conto sempre di più che la sua matrice culturale di partenza quindi quella che lei chiama l'Iranità è poi forse tra i tanti stimoli che ha avuto la più determinante quindi proprio Iranità ha voluto chiamare la sua sezione ed era una sezione che voleva portare al festival la quotidianità dell'Iran quindi anche quegli aspetti di decor di utilizzo o riutilizzo degli oggetti comuni nella vita quotidiana quella capacità anche di utilizzare il colore in una maniera che per noi diciamo occidentali certe volte non è così libera è così felice e che noi ritroviamo nel suo lavoro di designer apprezzato ormai proprio internazionalmente in realtà nel corso degli anni e degli anni scusate in realtà nel corso dei mesi che sono trascorsi dal mio invito al festival in Iran sappiamo è successo qualcosa di molto importante e terribile come le proteste che partono proprio dalla dall'uccisione di Mashamini e India ha deciso sempre più nel corso dei mesi di modificare il suo programma e di renderlo vicino concettualmente a quanto stava accadendo in Iran quindi ha portato in realtà dei video che hanno parlato soprattutto del ruolo della donna nel suo paese di come proprio la donna in Iran si relaziona con gli oggetti con le cose che le sono intorno ed è stato devo dire appunto un momento molto alto del festival per la sua testimonianza ma anche per la qualità dei materiali che ha portato terzo curatore ospite è stato Emanuele Coccia filosofo italiano distanza Parigi che invece ha portato un programma sulla moda su come la moda oggi sia un elemento di raccordo tra corpo architettura design e quindi un approccio se vogliamo molto concettuale ma allo stesso tempo anche molto legato proprio ad aspetti formali e formali nel migliore dei sensi naturalmente anche questo molto molto interessante quindi questa è stata la parte diciamo curatoriale e quindi con dei temi specifici e poi invece abbiamo lavorato sulla raccolta di film da tutto il mondo che raccontassero appunto le forme più nuove del design o raccontassero i suoi protagonisti attraverso due open call una dedicata proprio ai film di design l'altra ai film di architettura perché da sempre il festival ha questa doppia questo doppio canale e i film di architettura tra l'altro hanno anche un premio che diciamo viene assegnato al da una giuria al migliore di questi che è l'architecture film world che noi realizziamo insieme all'ordine degli architetti della provincia di milano quindi è un'altra novità quest'anno è stata l'apertura ai giovanissimi abbiamo creato una una rete una rete importante con le principali università milanesi naturalmente milano è capitale del design non soltanto per la produzione o per un evento come il salone ma anche per la presenza sul suo territorio di tante scuole di alta formazione dedicate a questa disciplina le abbiamo coinvolte tutte e abbiamo attraverso una call sollecitato i loro studenti a creare dei brevi video di 90 secondi che raccontassero la mostra triennale attualmente in corso proprio alla triennale alla istituzione omonima e o che ne raccontassero i temi e anche per questi brevissimi video è stato realizzato un premio quindi molto aperto il tutto è stato completato poi da un omaggio che ogni anno verrà fatto a un designer del passato la cui eredità però al nostro parere è oggi particolarmente viva e abbiamo iniziato da Gaia Olenti Gaia Olenti di cui nel 22 è stato celebrato il decennale della scomparsa e in corrispondenza di questo decennale appunto la sua eredità ha iniziato a diciamo a ripresentarsi con un'attualità straordinaria perché sono state molti momenti di riflessione sulla sua opera e momenti di riflessione che preludono una grande mostra che sarà fatta proprio quest'anno dalla triennale a Milano. Ecco il seguito della nostra conversazione sarà il fatto che noi mostreremo qui all'istituto di Mosca nei prossimi giorni tre dei filmati che sono stati presentati al Milano Design Film Festival e che parlano di, come è giusto per noi che sia, di esperienze italiane, di protagonisti italiani di questo settore dell'architettura e design visti in maniera complementare. Sono tre filmati dei quali due sono dedicati appunto ai maestri, uno l'hai appena nominato è quello su Gaia Ulenti e l'altro è quello su Angelo Mangiarotti e il terzo filmato che mostreremo è dedicato invece ad un, anche direi ad un connubio fortunato tra architettura e design, design storico e design contemporaneo che è il filmato dedicato a Palazzo Luce e vale a dire a questo palazzo storico a Lecce che è stato completamente rinnovato e reso sede di una importante collezione di design contemporaneo. Ecco questa trilogia era quel modo migliore che ci è sembrato di poter attuare per parlare e del Milano Design Film Festival che è una manifestazione tra le più importanti in questo settore in Italia e anche della storia del design italiano diciamo così da due dei suoi esempi più luminosi a una realizzazione invece contemporanea. Ecco ci vuoi illustrare un po' questi tre filmati e anche diciamo le personalità che sono al centro di questi, di questi, di queste opere. Innanzitutto la scelta di portare al Festival questi due lavori su Gaia Ulenti e Angelo Mangiarotti è stata determinata anche dal fatto che si tratta di due figure il cui lavoro sta venendo, non dico riscoperto perché nel caso ovviamente di Gaia Ulenti stiamo parlando di una figura così internazionalmente nota, però dalla sua morte diciamo il suo lavoro era stato non dimenticato ma sicuramente un po' si era un po' allontanato dal dibattito più contemporaneo. Quindi l'occasione appunto del decennale della sua morte è stata anche un'occasione di riprendere le fila e con forse la distanza necessaria guardare di nuovo al suo lavoro e il film che presentiamo nella rassegna appunto per il vostro istituto è un film che si chiama ma sinceramente Gaia è stato in qualche modo stimolato proprio dal Festival che collabora con Sky Art quindi con il canale televisivo tematico dedicato proprio all'arte, all'architettura e al design e partendo da un'intervista, da una lunga intervista rilasciata proprio da Gaia Ulenti circa 15 o forse addirittura 20 anni fa la regista che è Didi Gnocchi ha ricostruito una narrazione corale della figura di Gaia Ulenti che è estremamente secondo me anche piacevole e interessante perché ricostruisce non soltanto la sua figura professionale che è quella ovviamente di una delle più grandi architette della seconda metà del Novecento che si è misurata con committenze importanti come ad esempio il cambio di destinazione d'uso della Garde Orsay a Parigi che è oggi trasformata appunto nel grande museo che oggi conosciamo un museo che raccoglie i capolavori dell'impressionismo e non solo o con la ristrutturazione tra l'altro di molti spazi destinati proprio all'arte contemporanea mi viene in mente Palazzo Grassi a Venezia oppure di sistemazioni urbanistiche come quella di Piazzale Cadorna a Milano quindi un'architetta che ha lasciato un segno importante sulle capitali europee e non solo europee se ti posso perché è autrice del progetto per l'edificio dell'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo dove ancora l'Istituto ha sede, è una bellissima sede e tra l'altro proprio appunto nelle testimonianze che abbiamo raccolto in occasione del festival si raccontava di come l'utilizzo del colore rosso che caratterizza il lavoro di Gaia Olenti in generale l'uso del colore perché non solo il rosso ma anche il verde quindi questa idea del colore che poi dopo tornerò ad affrontare in relazione proprio anche alle designer italiane dell'ultima generazione che abbiamo messo in dialogo proprio con il lavoro di Gaia Olenti durante il festival però ecco questo colore rosso così forte, così intenso venne accusato di disturbare un momento estremamente importante in Giappone come quello della fioritura dei ciliegi nel giardino che è antistante all'edificio quindi provocò non poche polemiche e appunto Gaia Olenti lo vedrete nel film viene raccontata attraverso una serie di testimonianze molto sfaccettate che vanno da quelle dei suoi colleghi a quelle di storici ma anche testimonianze familiari perché in qualche modo l'eredità di Gaia è stata raccolta poi in linea matrilineare da sua figlia Giovanna e soprattutto da sua nipote Nina Nina Artioli che è la persona che oggi si occupa dell'archivio Aulenti quindi non soltanto dell'ascito di tutti i suoi documenti e progetti ma anche di un luogo fisico molto speciale che è la casa di Gaia Olenti che oggi è diventata sede dell'archivio e che è un luogo che ancora credo insomma trasmette in maniera molto intensa e precisa lo spirito di questa creatrice straordinaria quindi nel caso di Mangiarotti invece abbiamo presentato siamo stati felici di presentare un film un film con una lunghezza importante insomma un'ora e mezza che racconta a 360 gradi il suo lavoro perché Mangiarotti non è stato soltanto designer anche se oggi i suoi pezzi proprio di design all'asta stanno conoscendo un successo importante ma è stato architetto e scultore e questi tre aspetti della sua pratica in realtà sono sempre stati in fortissimo contatto l'uno con l'altro per esempio nelle sue opere di design, nei suoi famosi tavolini c'è integra proprio la sapienza dello scultore non soltanto nel trattare la forma e il volume degli oggetti ma anche il materiale, il marmo che Mangiarotti amava così tanto e quindi il film racconta anche qui attraverso molteplici testimonianze questo personaggio proprio a 360 gradi e anche Mangiarotti, Mangiarotti quest'anno, nel 2023 conosce appunto il centenario della sua nascita e la triennale di Milano dedica una mostra che apre proprio in questi giorni alla sua figura quindi ci sarà modo per chi poi potrà essere in Italia e anche di approfondire attraverso proprio il rapporto con le opere il suo lavoro ma ci è sembrato importante appunto attraverso la presentazione del film in qualche modo premettere proprio un'occasione di conoscenza così articolata poi al lavoro della mostra quindi è stato un filmato realizzato su commissione del festival? quello di Mangiarotti no e anche quello di Gaio Lenti non è stata una commissione è stata direi uno stimolo perché la sezione che noi abbiamo chiamato Radici che è quella dedicata proprio ai designer del passato riattualizzati funziona in una maniera particolare perché parte da materiali video che in questo caso per noi erano i materiali dell'archivio quindi messi insieme proprio dall'archivio dei materiali anche molto privati ma fa seguire a questa proiezione nel festival una discussione corale alla quale abbiamo invitato quattro designer o studiosi di design appartenenti a una generazione molto più giovane la generazione delle quarantenni di oggi a guardare al lavoro di Gaio per i suoi vari aspetti quindi il rapporto con l'architettura il rapporto col design ma anche il rapporto col teatro che è stato così importante per lei ricordiamo la collaborazione con Ronconi al fabbricone di Prato nel 78 una delle esperienze di teatro forse più seminali in Italia per quanto riguarda proprio il rapporto con la città e il desiderio di uscire fuori dagli spazi deputati e poi appunto la testimonianza anche di sua nipote le persone che abbiamo chiamato a ricordare attualizzare Gaia sono state una giovane designer italiana Sara Ricciardi classe 89 beneventana vive a Milano ed è oggi veramente una delle figure più interessanti e promettenti del nuovo design italiano poi Nina Bassoli che in triennale è la persona proprio che dirige il Dipartimento Architettura e che lavorerà appunto a questa mostra su Gaia Olenti che si aprirà più avanti appunto nell'anno e Nina Artioli, sua nipote è direttrice dell'archivio Matilde Cassani che è un'altra figura chiave del design italiano contemporaneo anche lei classe 1980 designer ma anche molto attiva all'interno dell'exhibition design come Gaia Olenti che appunto ha disegnato tante mostre importanti e proprio di questo parlava e poi Emilia Giorgi che è una storica del design e dell'architettura che ha parlato proprio del rapporto col teatro quindi c'era questa il festival aveva questa struttura da questa struttura in qualche modo parlando con Sky è nata per Sky l'idea di fare una cosa del genere attraverso il film quindi sono partiti da una intervista che avevano in archivio e l'hanno attualizzata attraverso tutta una serie di testimonianze contemporanee quindi diciamo che in qualche modo il festival è stato l'attivatore di questo progetto di documentario su Gaia Olenti che appunto verrà poi trasmesso in tv quest'anno e speriamo insomma abbia poi anche una grande circolazione perché aiuta veramente molto a comprendere la figura di Gaia Olenti Senti ma questi grandi maestri del design dell'architettura di un'Italia un po' passata che in questo momento non c'è più sono ancora degli esempi produttivi o questi atti di omaggio e di ricostruzione sono proprio invece il sintomo del fatto che li si è in un certo senso storicizzati e collocati in un passato che non è riproducibile diciamo lo stesso discorso si potrebbe fare per tante altre aspetti della creatività italiana o dell'arte o della letteratura i contesti non sono più quelli e forse per figure così a tutto tondo oltretutto Mangiarotti, scultore, designer, architetto forse per figure così ampiamente rappresentative di diversi aspetti della creatività artistica non c'è più spazio oppure secondo te invece sono ancora dei modelli produttivi diciamo così? Ma io credo che ormai da diverso tempo si sia innescato all'interno non solo del design ma anche dell'arte per esempio una dinamica di come dire di creazione di ponti tra generazioni che è molto fertile cioè mi sembra che le giovani generazioni oggi cerchino sempre una relazione con il passato in qualche modo ma non una relazione tranquillizzante non necessariamente però dialogica per cui ho l'impressione che appunto in maniera anche molto libera e spesso vedendo cose che fino a quel momento non erano evidenti nel lavoro di questi maestri diciamo le giovani generazioni guardano a loro e dunque in qualche modo ne fanno tesoro ma anche sono in grado di attualizzarne l'eredità e di renderla cosa viva per esempio Nina Artioli appunto la nipote di Gae proprio su questo tema vorrebbe impostare il lavoro dell'archivio cioè l'archivio non tanto come uno strumento di studio di approfondimento in qualche modo di celebrazione della figura di Gaia Olenti ma quanto proprio elemento di partenza per sviluppare un nuovo pensiero sul design e sull'architettura quindi andando a cercare anche gli elementi più vivi del lavoro di Gaia Olenti che non necessariamente sono stati quelli per esempio più apprezzati quando l'autrice era in vita e lo stesso vale per Mangiarotti quindi credo che sia molto interessante questo aspetto di relazione tra i maestri e le nuove generazioni perché non è non è gerarchico in qualche modo no? Ed è realmente un dialogo nel tempo credo questo appartenga moltissimo la generazione diciamo dei nati intorno appunto agli anni 80 e anche forse le generazioni successive e secondo me produce produce cose interessanti perché ad esempio proprio parlando di design e architettura dicevamo prima del colore dell'Istituto di Tokyo ecco le designer di cui parlavo prima cioè Sara Ricciardi e Matilde Cassani ma possiamo metterci anche Elena Salmistraro per esempio hanno un uso del colore estremamente vivace estremamente ironico estremamente libero e questa cosa appunto del design e dell'architettura colorata nel caso di Gaio Lenti in qualche modo è stato un elemento anche importante guardiamo per esempio Piazza Cadorna a Milano dove il rosso e il verde sono due colori dominanti e anche l'opera d'arte che è il lago di Oldenburg che è davanti e dialoga anche quello porta proprio un elemento di colore in una città che forse ecco diciamo non è colore il primo elemento a contraddistinguerla come Milano certo senti e l'ultimo invece filmato che noi mostreremo è questo su Palazzo Luce che è invece siamo su tutta un'altra dimensione non celebrativa non commemorativa non alla ricerca di filoni o forse anche sì adesso ce lo direi tu di filoni che congiungano un passato al presente ma è un un esperimento del quale io non conosco magari però invece tu ce lo dirai precedenti italiani un esperimento di concentrazione in un unico luogo architettonicamente marcato come è il palazzo appunto di Lecce in cui tutto questo ha sede di concentrare appunto in questo luogo storico una serie di oggetti e anche di opere site specific che si armonizzino tra loro e con il contenitore architettonico e quindi ne viene fuori un ritratto di questa specifica impresa ma anche di una serie di protagonisti di tendenze del design non direi solo contemporaneo ma degli ultimi dimmi tu 50-60 anni beh anche qui c'è proprio un dialogo direi tra le stesse generazioni di cui si parlava prima anzi forse risale anche a una generazione leggermente precedente perché si parte dalla collezione di design del dopoguerra della proprietaria del palazzo che è la signora Inselmi e è una collezione che vede appunto soprattutto in gioponti proprio la sua punta di diamante con pezzi davvero molto molto belli e partendo da questa collezione storica poi però si crea un dialogo con le generazioni più recenti perché ad esempio all'interno del palazzo Martino Gamper che è un designer italiano altatesino che adesso vive ormai da molto tempo a Londra e che lavora in maniera estremamente interessante anche proprio in relazione al passato ecco Martino è intervenuto creando nuovi nuovi mobili nuovi ambienti una cosa interessante forse da raccontare è che proprio Martino Gamper per esempio parlando di questo dialogo confronto in certi casi anche confronto molto dinamico tra generazioni ha fatto anni fa un progetto che fu anche in qualche modo scandaloso tra virgolette perché si appropriò di alcuni mobili di gioponti realizzati per un albergo di Sorrento e letteralmente fece a pezzi questi mobili quindi proprio in diretta a Basilea Dart Basel Design con strumenti appunto di falegnameria affettò i mobili di ponti e li riassemblò in nuove configurazioni quindi dimostrando proprio come dire seduta stante questa grande libertà nel guardare al passato reinterpretarlo e farlo proprio quindi proprio Martino era la persona più adatta in assoluto a creare a Palazzo Luce questo dialogo tra presente e passato non è stato l'unico perché per esempio anche i Forma Fantasma sono stati recentemente appunto chiamati a elaborare un progetto per il palazzo e la cosa interessante è che accanto al design nel palazzo c'è anche l'intervento dell'arte contemporanea quindi di artisti anche qui di varie generazioni che vanno da Josef Kossut a Marzia Migliora quindi anche qui c'è c'è un dialogo molto molto fertile ma molto fluido e diciamo a in qualche modo favorire questo dialogo poi ci sono state due grandi figure soprattutto una di gallerie italiane che da anni insomma lavorano e rendono appunto la scena delle gallerie italiane importante a livello internazionale che sono la galleria di Lierumma a Napoli e Nina Yashar che con il suo Nilufar a Milano ha lavorato e portato a Milano il design diciamo più vicino all'arte come approccio e più interessante a livello appunto anche internazionale che sono tutte figure che poi nel filmato compaiono e parlano e intrecciano tra di loro un dialogo realizzato da Alessandra Galletta che è una regista un'autrice che ha dimostrato anche nei suoi film precedenti dedicati a grandi figure dell'arte come Ettore Spalletti o Francesco Vezzoli una straordinaria sensibilità nel racconto dell'arte ecco questa sensibilità la mette diciamo a servizio di questo progetto straordinario che è Palazzo Luce facendo parlare non soltanto gli autori ma anche chi è stato in qualche modo l'attivatore di questo dialogo quindi ovviamente Anna Maria Inselmi ma anche Lia Rumma e Nina Yasher che da tanti anni appunto lavorano su questo territorio viene proprio fuori una sorta di racconto corale di questa impresa collettiva che è molto molto suggestivo senti in due una battuta per per concludere il design italiano è sempre vivo e ai livelli del della di esperienze di qualche decennio fa o conosci una fase di di crisi ma sai io credo che proprio i nomi che abbiamo fatto proprio finora dimostrano che il design italiano è ancora davvero all'avanguardia nel nel mondo perché abbiamo parlato di Martino Gamper e di questa sua modalità così così dirompente nuova anche di rapportarsi al passato ai materiali parliamo di forma fantasma che sono devo dire due figure che veramente stanno cambiando la percezione del design come disciplina fondandola sulla ricerca prima che sull'elemento di produzione quindi forma fantasma da anni ormai conducono una ricerca importantissima proprio sulle condizioni in cui il design avviene quindi andando a lavorare sulla governance delle industrie che che sono proprio alla base della della produzione del design hanno lavorato per esempio sulla governance dell'industria del legno con un progetto veramente molto profondo e credo anche molto importante rispetto ai tempi che stiamo vivendo la nostra consapevolezza sui temi dell'ambiente intitolato cambio tra l'altro c'è un sito bellissimo che loro hanno fatto dove tutto il risultato di questa ricerca è accessibile vi consiglio di visitarlo adesso stanno lavorando su un progetto altrettanto vasto e altrettanto importante che parla di domesticazione cioè del rapporto tra gli uomini e gli animali diciamo che l'elemento principale di questa analisi è la produzione di lana quindi tutto diciamo più che secolare il millenario rapporto tra gli uomini e gli animali che producono la lana ma da lì si parte appunto per parlare proprio ecco della domesticazione che è un tema oggi molto molto importante quindi toccano anche il tema dell'antispecismo che è appunto in questo momento fonte di dibattiti profondi quindi dimostrano come il design non sia soltanto un elemento non sia soltanto una disciplina che parla della produzione di oggetti materiali o di elementi formali ma che anzi è l'attivatore di una riflessione molto più profonda del nostro rapporto sul nostro rapporto con le cose che ci circondano quindi sono straordinari e poi abbiamo nominato per esempio Elena Salmistraro Sara Ricciardi Matilde Cassani cioè una generazione di designer di donne che non è una banalità definire innovative anche proprio per come la presenza femminile in questi anni si sia affermata a livello italiano e internazionale non era banale quando Gaia Olenti per esempio lavorava era una delle pochissime donne presenti sulla scena internazionale e abbiamo anche visto come alcune figure altrettanto importanti a livello internazionale siano siano esistite sotto traccia per tanto tempo prima che il loro lavoro venisse affermato nel festival per esempio abbiamo dedicato dei film proprio a Lily Rec per esempio con l'intenzione proprio di far riflettere su come queste figure in realtà non abbiamo trovato nei decenni scorsi lo spazio che meritavano ecco oggi il design italiano e quello internazionale ha invece lo spazio e l'attenzione si sono fatte spazio e hanno creato un'attenzione queste giovani autrici bene grazie mille cristiana anche per questa per questa carrellata finale sulle produzioni più recenti sulle tendenze più recenti che confermano il design italiano come una delle delle punte di eccellenza della creatività italiana contemporanea e siamo contenti di constatare che non che non accenna a diminuire l'importanza di questo settore grazie mille della conversazione estremamente stimolante noi speriamo di attingere ancora al Milano Design Film Festival perché oltre a quelli che noi presenteremo ci sono altri bellissimi filmati su altri artisti protagonisti della dell'arte italiana recente e che magari riusciremo ad avere e a mostrare al nostro pubblico Moscovita grazie ancora un saluto a tutti grazie a chi vedrà il nostro programma Grazie a tutti